con un'importante operazione condotta dalla Guardia di Finanza contro la Cosca, società foggiana. 11 misure cautelari personali, sequestri di beni per 2 milioni di euro e decine di perquisizioni tra le province di Pescara, Foggia e Grosseto. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, col supporto del locale reparto operativo aeronavale e la collaborazione delle fiamme gialle foggiane, hanno eseguito lungo l'asse adriatico i provvedimenti disposti dal GIP del Tribunale dell'Aquila. nei confronti di personaggi di spicco della Cosca, società foggiana. Tra le misure cautelari, 8 arresti, metà in carcere e metà ai domiciliari, un obbligo di dimora, due obblighi di firma, oltre a sequestri di due immobili a Pescara e Grosseto, 300 mila euro in contanti e un vasto paniere di quote di 5 società del pescarese per un valore complessivo di 2 milioni di euro, sottratti alla disponibilità del sodalizio criminale. L'operazione odierna è stata condotta dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara nell'ambito delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Le investigazioni, i pedinamenti e le intercettazioni telefoniche ed ambientali di oltre 700 mila conversazioni hanno svelato i rami del business del clan Moretti-Lanza-Pellegrino nel pescarese, usura, estorsione, ricettazione e intestazione fittizia di beni. Un giro d'affari milionario che nel tempo ha consentito alla cosca foggiana di infiltrarsi nel tessuto socio-economico del capoluogo adriatico inquinandone con il metodo mafioso la realtà produttiva tramite traffici illeciti sulle piazze locali e investimenti nelle attività imprenditoriali di spicco del territorio. Tra queste anche quella di una nota famiglia di imprenditori pescaresi del settore della ristorazione è vittima di tassi di interesse fino al 600% al mese. Per un prestito di 100 mila euro, infatti, non potendo onorare il debito, gli imprenditori sono stati costretti a chiudere la partita con gli strozzini simulando un comodato ad uso gratuito a tempo indeterminato prima e un contratto di affitto dopo dell'appartamento di proprietà nel centro di Pescara del valore di 4-500 mila euro. In molti casi, poi, alcuni imprenditori sono stati bersaglio di minacce, aggressioni ed estorsioni. Altri hanno dovuto assumere come dipendenti i loro usurai o persone a loro riconducibili. L'impiego, spesso puramente formale, ha permesso a qualcuno di questi la percezione indebita dei contributi previsti per il sostentamento dell'emergenza Covid senza andare mai a lavorare.